Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, nuova puntata dove andiamo a giocare a scacchi Blitz a 3 minuti. A qualcuno di voi è piaciuto il video precedente, sono contento. Ovviamente ci sono diversi che preferiscono le partite a 10 minuti, però ragazzi vi ho già spiegato la mia, quindi per ora continuiamo a giocare così, lo sto facendo anche come allenamento per me stesso, perché insomma non ho toccato dall'ultima volta all'ultimo episodio, sono arrivato a 2530. E vediamo se riusciamo a salire anche oggi Blitz. Il 2530 è un punteggio di tutto rispetto, però secondo me posso arrivare anche a 2600 su chess.com, che è un punteggio altissimo, è chiaramente. Gli scacchi sono la mia passione, penso che non smetterò mai di giocare a scacchi, quello era un blef l'altra volta, quindi continuerò ovviamente a giocare, al massimo aprirò un nuovo canale dove parlerò di altre cose, però gli scacchi rimangono e resteranno sempre con me. Prima di iniziare vi chiedo di supportare con un mi piace, di iscrivervi al canale, dai ragazzi arriviamo a 100.000 iscritti, per favore iscrivetevi al canale e iniziamo. Ok, eccoci qui, vediamo come va quest'oggi, abbiamo beccato subito un maestro fide alla prima partita, che mi gioca la siciliana, oh, meraviglia la siciliana, perfetto, è quella che conosciamo meglio, ovviamente giochiamo l'attacco Grand Prix qua, vediamo un pochino come si mette sta partita. Lui gioca E3, ah, io pensavo A6 per non, per mettermi alfere B4, invece gioca E3, vediamo un po' come la gioca lui. Maestro fide ci arriva addirittura lo 0, qualcosa, non so bene la statistica. A maestro ci arriva l'1%, maestro fide, buh, non lo so. Non mi stupirei se fossero 0,3, 0.3%, una cosa del genere, di quelli che giocano tornei di scacchi ovviamente. Comunque qui non ci ho capito nulla, apertura veramente strana, anche se sto giocando il Grand Prix, però guardate che roba ragazzi, proviamo ad arroccare, mettiamo il real sicuro. E vediamo cosa vuole fare lui, perché si è espanso tantissimo sul lato di donna. Boh, vediamo un pochino che mi combina, mi dà scacco Rh1, l'aspettavo lo scacco onestamente. Qui vorrei tanto giocare D4, esatto, su cavallo G4 volevo giocare D4, vediamo se c'è qualcosa, non mi sembra, quindi giochiamo D4, e ora ho un ottimo controllo del centro, però non sono riuscito a impostare un attacco. Quindi prima cosa da fare è cacciare via quel cavallo, poi magari giocare pedone C3, e così attivo i due alfieri, e lui è uno che ci pensa tantissimo. Allora, facciamo C3, intanto lui non può giocare cavallo B3, altrimenti perde la torre, quindi per il momento non la può fare, e vediamo un pochino che succede. Lui arrocca, giustamente collega le torri, quindi arriva H3, attacco il cavallo, il cavallo si sposta in F6, mi sta attaccando in E4, anche se è già difeso dall'alfiere, quindi per il momento direi di stare fermi. Gioco alfiere E3, attacco la donna a raggi X, questa sarà una partita tosta, però come vedete ragazzi, cioè, mi sto sciogliendo, sto giocando sempre meglio, e riesco a tenere più tempo rispetto all'avversario. Quindi gli sto sopra con il tempo, ora mi sta attaccando in E4, e qui cosa facciamo? Vorrei evitare giocare 5 perché gli do la casa di 5, al cavallo. Quindi, non so, forse giochiamo cavallo G3, dai, giochiamo cavallo G3, per il momento dovrei essere a posto. Quella del tempo, dicevo, è una componente psicologica importante, no? Avere più tempo rispetto all'avversario. Qui ho dovuto giocare 5 perché mi attaccava con ben 3 pezzi, quindi attacco il cavallo, lui ovviamente lo sposta in D5, gioco alfiere D2, lui lì poteva venire, invece ha giocato pedone per C3, però, insomma, cavallo B3 non è che mi faccia tanta paura, perché posso catturare la torre. Quindi non è un doppio reale, diciamo. Esatto, vedete, posso catturare la torre. E qui cerchiamo, magari, di espanderci sul lato di Re. Purtroppo, se lui qui vuole, mi può catturare. Cioè, mi può catturare l'alfiere, che è un bel pezzo. Io non so chi stia meglio, forse lui, forse io, non lo so. Certo, in F5 non ve l'aspettavo che avrebbe catturato, Mmm, si sta aprendo tutto. Lui ha le case chiare, che sono molto forti, però, guardate, i miei due cavalli sono, cioè, favolosi, ragazzi. Gioca alfiere F6, gli tolgo l'alfiere campo chiaro, dai. È il minimo che potessi fare lì. A 34 secondi, mamma mia, cioè, mi volano queste partite. Non pensavo che fosse così divertente giocare Blitz. Qui sto minacciando di catturare in B3, quindi lui dovrebbe catturare in D2. Sono pronto a riprendere in pre-move. Altrimenti catturo. Cosa vuole fare? Ah, vuole entrare in E2 lui. Lui vuole entrare in E2 per minacciare scacco matto in G2. Tuttavia, mi sa che posso catturare perché posso dare scacco in B8. Quindi, ci sono tematiche di matto, temi di matto, matto del corridoio. E ora lui minaccia di entrare in E2. Mi sta attaccando anche il cavallo, che disastro. A 18 secondi, devo cercare di complicare la partita. Giochiamo pedone C4. Quindi ho attaccato il cavallo. Lui l'ha spostato. Sta attaccando in C4. Ho un cavallo in presa. Se continuassi ancora ad attaccare il cavallo, lui entrerebbe in E2. Però, in quel modo, potrei attaccare F7. Dai, facciamo così. Ora, su torre in E2 gioco cavallo E3 per difendere. Ok, lui ha 10 secondi. Quindi l'importante è resistere 10 secondi. Perché la partita è assolutamente folle, ragazzi. Ehi, Lillo! Ti sei beccato in matto. Bellissimo, bellissimo, raga. Bella, bella, bella. Come vi batto, maestro Fide? Come mai a 10 minuti non ci sono mai partite di questo tipo? Cioè, a 10 minuti mi vengono tutti a fare i perfettini a me? E ovviamente non parlo di titolati, eh. Parlo di non titolati, perché la maggior parte che giocano sono non titolati. Vediamo questo, chi è? Ok, scritto nel 2017. Il rischio di beccare Cetera a 3 minuti è basso. E quindi abbastanza basso. Ci sono, eh. Ci sono anche a 3 minuti. A volte giocatori devastanti. Però molto meno rispetto a 10 minuti. Perché a 10 minuti, ragazzi, come vi dicevo l'altra volta. E non ci gioca nessuno. Cioè, tutti quelli forti. Tutti quelli che hanno un titolo. I giocatori titolati. Non si mettono lì a perdere tempo a giocare a 10 minuti. Il cheating è a livelli estremi. Cioè, per questo. Bene. Allora, qui se non mi sbaglio abbiamo già un pedone in più, eh. O no? Penso proprio di sì. Abbiamo un pedone in più e lui mi sta attaccando la torre. E anche F2. Però questo è furbo. Questo è furbo, ragazzi. Perché non posso giocare alfiere da qualche parte. Quindi non posso sviluppare l'alfiere in questo momento. Altrimenti mi entra in B2. Quindi torre B1 per giocare B3. E poi dopo magari alfiere B2. Vediamo un po' che si combina qua. Ok, B3. La maggior ragione qui B3 per evitare anche C4. Alfiere B2. Ok, qui si cattura, ovviamente. Donna E2. Ne sono uscito vivo. E qui abbiamo un pedone in più, insomma. Ah, propone. Vabbè, dai. Proviamo a catturare. Vediamo cosa succede. Torre E2. Teoricamente dovrei stare un pochino meglio. Ma non si sa mai, non lo so. È una partita blitz. La donna può sempre essere pericolosa. Raddoppiamo le torri. Qui dovrei cercare di cambiare i pezzi. Quindi di... Catturare l'alfiere. Però non so come fare. Facciamo cavallo in F3. Peccato, vedete. Non posso giocare torre E4. Quindi gioco torre E5. E vediamo l'avversario cosa fa. Anche questa è una partita tosta. Molto tosta. Mi attacca il cavallo. Proviamo cavallo in H2 per giocare cavallo G4. Anche se qui l'alfiere è molto pericoloso. Qui dove andiamo? Madonna. Mi sento un pochino perso in questa posizione. Mi sta attaccando in C2. Mi sta attaccando in C2 e non posso difendere. Devo difendere contro il C1. E ritorno ad essere passivo praticamente, come vedete. Gli scacchi sono uno sport violento. Lo sport più violento che ci sia. Questo l'ha affermato Kasparov. Effettivamente a livello psicologico gli scacchi sono devastanti, ragazzi. Ecco per quale motivo poi i giocatori si mettono a barare. Perché sono difficili da accettare le sconfitte. E questa partita sta andando male, secondo me. Perché lui ha anche attivato il re. Cavoli, mi sta per entrare, no? Vabbè, mi sa che ho perso. Vabbè, dai. Allora, qui torre F2 mi gioca H2. Mammina. Peccato. Peccato. Proviamola comunque, torre F2. H2 ha vinto, eh. No, vabbè, no, vabbè. Non ha giocato H2. Cavoli, andava a promozione oppure guadagnava la torre. Non l'ha neanche giocata. Mi ha graziato. Allora, ragazzi, ditemi, 2462, vi sembra scarso questo? No, non è scarso. Come mai non trova la mossa lì? Cioè, qualcuno me lo spieghi, per favore. Non è solo una questione di tempo. Non è solo una questione di tempo, assolutamente. Perché ci sono partite a 10 minuti. Dove gli avversari regalano pezzi. Cioè, succede anche dal vivo a 12 più 3, eh. L'errore è dietro l'angolo. Siamo esseri umani. Poi, se arriva quello che mi mette 30 mosse migliori, oppure che mi mette 5 mosse a motore, 2 no, 5 a motore, 2 no, sì, buonanotte. Poi, pensatela come volete. Perché, secondo qualcuno, mi lamento troppo. Però, vabbè. Allora, qui vediamo cosa fare. Perché sono un po' indeciso se continuare la partita oppure ripetere la posizione. No, secondo me non ne vale la pena. Non ne vale la pena perché la donna è troppo forte. Quindi, ok, va bella patta. Qui abbiamo pareggiato, tranquillissimo. Mi ha tolto due punti, però per ora sono in positivo. Una vittoria, un pareggio. E direi di fare un'altra partita. Quindi, passiamo alla prossima. Oddio. Maestro internazionale. Oh, questi sono i giocatori contro cui voglio giocare. Vediamo un pochino cosa succede qua. Quindi, cavallo F3 apre lui. Io cavallo F6. Poi D4, D5. Qui siamo rientrati in un gambetto di donna. Quindi, cattura. Giochiamo questa variante. Ecco, questa variante qui il motore mi massacra praticamente. Dal vivo anche, eh. Ho perso qualche partita con questa. Contro un candidato maestro. Se non mi ricordo male. Che commenta a volte anche qua sotto ai video su YouTube. Cioè, una ne ho persa in realtà. Però poi sono tornato a casa. Ho rivisto la partita. Ho capito come dovevo giocare. Una variante molto solida questa qui che stiamo giocando. Dovrebbe reggere. Chiaro, se poi gioco contro Stockfish perdo. Ma perderei con qualsiasi altra apertura, no? Ok, vediamo. Questo è molto forte. È molto forte. E forse sto anche già peggio. Perché mi sta attaccando. Sia a Ragix con la torre. Ha attivato la donna. Ah, questa... Sì, era nell'aria, effettivamente. Vediamo un po' cosa vuole fare. Qui catturo. Mi ha dato due cavalli. Oh no, ragazzi. Eh, mi sa che questa l'ho persa. Ora entra di torre in D7. Cioè, ho la qualità in meno. Ho la qualità in meno. Quindi dovrebbe essere andata. Però cerchiamo di lottare. Perché potrebbe non essere da abbandono. Ecco, ora lui deve spostare la torre. Mi creò un pedone passato. Cosa? Mi ha regalato la torre. Maestro internazionale, ragazzi. Cioè, maestro internazionale. Ora voi potete dire, vabbè, giochi a tre minuti. Ma cosa c'entra? C'aveva più di due minuti di tempo. E c'è un pezzo in più. Sta lasciando trascorrere il tempo. Non ci posso credere. Mamma mia. Godo tantissimo. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Cioè, sta lasciando trascorrere il tempo. 2550, giocatore esperto, professionista, sul sito per professionisti. Giochiamo a tre minuti. La nostra scalata continua. Ecco, no, no, vabbè. Cioè, guardate il punteggio. Tre vittorie per me, due pareggi e zero sconfitte per lui. Cioè, io sto massacrando questo maestro internazionale blitz. Poi, rapid, magari mi batterebbe, però gli potrei tenere testa. Rapid, eh, dico. A tempo lungo, poi, è un altro discorso. Magari è molto più preparato di me in apertura. Questa partita qui gliel'abbiamo rubata. Sono d'accordo. Però il suo atteggiamento, non mi sta piacendo, è scappato praticamente. Abbandona automatico tra sette secondi. È scappato. Vabbè, assurdo. Assurdo. Vediamo. Ehi! Bellissimo, bellissimo. Vabbè, sono contento, dai, ragazzi. Sono molto, molto contento. E anche oggi, 2542, ci fermiamo qua. Bel punteggio. Niente, cosa posso dire? Se vi piacciono questi contenuti, continuate a supportarli con un like. Commentate sotto. E fatemi sapere sempre come posso migliorare questa, diciamo, questo tipologia di video. Vi ricordo di mettere mi piace, di iscrivervi al canale. Ciao e alla prossima.